Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana a cura della redazione di Italia 7. Iniziamo subito andando a vedere come il Consiglio ha votato, anzi ha approvato la riforma statutaria che prevede un cambio dell'ufficio di presidenza e l'introduzione del sottosegretario alla presidenza della regione, ma non è mancato il dibattito e qualche sorpresa al momento della votazione. Dibattito acceso in aula sulla seconda lettura della proposta di legge di modifica statutaria che prevede l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a sette membri e la creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della regione. L'aula ha approvato la riforma con 24 voti a favore di Partito Democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, Contrari Fratelli d'Italia, Italia Viva e la consigliera Elisa Tozzi per il gruppo misto Toscana Domani. Non hanno partecipato al voto il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani e la Lega. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello statuto così come voluta dal presidente della giunta regionale che prevedeva l'allineamento nella composizione della giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso in quel momento deve avere un senso anche oggi e siccome oggi questa riforma dello statuto oltre alla creazione di un sottosegretario che era già nell'impianto originario prevede un allargamento dell'ufficio di presidenza quei costi ci saranno e saranno importanti collegati soprattutto alle strutture e al personale e allora se all'epoca poteva valere quel ragionamento quel ragionamento a maggior ragione deve valere anche adesso. Fermo restando che reputo assolutamente incongruo un ufficio di presidenza fatto da sette membri quando il consiglio regionale ha 40 consiglieri in aula. Mi pare francamente sproporzionato rispetto alle esigenze della presidenza dell'aula. Proprio il presidente Bugliani ha ricordato l'iter che dopo la prima lettura richiede il passaggio al consiglio regionale in seconda lettura senza facoltà di emendamento e poi l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio con 21 voti favorevoli. La riforma stabilisce che nell'assemblea di 40 consiglieri si è istituito un ufficio di presidenza di sette membri con un presidente, due vicepresidenti e quattro consiglieri membri con funzione di segretario dei quali due con funzione di segretario questore. Il secondo aspetto toccato dalla riforma prevede l'istituzione del sottosegretario alla presidenza della regione scelto tra i consiglieri regionali con facoltà di partecipazione alle sedute della giunta senza però diritto di voto. La sua funzione è quella di ausilio del presidente della regione soprattutto per i rapporti tra consiglio e giunta e gli può essere delegato il compimento di atti specifici. Nessun cambio di maggioranza. La maggioranza è perlomeno dal mio punto di vista è solida con con Italia Viva. È evidente che il Movimento 5 Stelle dopo il voto sui grandi elettori ci ha mandato un altro messaggio di attenzione rispetto ai lavori istituzionali che noi stiamo portando avanti ma detto questo non cambia nulla. Vedo purtroppo e questo mi preoccupa per il funzionamento del Consiglio regionale una grande frammentazione nel centro-destra. Hanno espresso voto contrario Lega, Fratelli d'Italia, Italia Viva e Gruppo Misto. Noi stamani abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD visto che hanno chiesto interruzione proprio per questo di un passaggio di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa e poi il PD è tornato e ha voluto votare allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo oggi è emerso un po' un po' di confusione sembra che il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia Viva stando a quanto vediamo dal voto anche perché la proposta è in seconda lettura dalla prima alla seconda non si può modificare ed evidentemente il 5 Stelle che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza del questore spette a una persona del Movimento 5 Stelle può darsi aspettiamo magari chiederemo anche lumi sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va in maggioranza tra di loro. È evidente che questo voto apre un confronto politico a mio avviso nelle prossime settimane sarà necessario non è più rinviabile questo non tanto nel merito delle questioni statutarie perché credo che i partiti possano legittimamente votare e anche i singoli consiglieri in base alla propria coscienza ed è corretto che sia così però è evidente che questo voto apre un confronto non soltanto nella maggioranza ma anche nelle istituzioni. Noi lo chiedevamo anche in merito per esempio alla riforma del sistema elettorale lo chiedevamo su varie questioni. Oggi sono in ballo temi importanti. Penso l'allocazione definitiva delle ultime risorse sul PNRR c'è il piano dei rifiuti c'è le questioni infrastrutturali per quanto riguarda la nuova pista dell'aeroporto quindi noi crediamo che archiviato questa fase questo anno e mezzo sia necessario doveroso e opportuno magari fare una verifica degli impegni assunti in campagna elettorale per riproseguire in maniera compatta e più forti per il proseguo del mandato. Se la maggioranza non riesce a trovarsi d'accordo all'interno della propria compagine figuriamoci se possiamo andare noi in aiuto. La cosa surreale è che il Movimento 5 Stelle che fino a ieri aveva parlato di combattere i costi della politica anche laddove i costi della politica erano l'assunzione di personale di ragazzi e di ragazze che avrebbero avuto un posto di lavoro ha votato a favore dopo una consultazione col Partito Democratico quindi di due cose l'una o il Movimento 5 Stelle è contrario alle assunzioni quando le fanno gli altri ma non è assolutamente contrario quando magari ci può mettere bocca e spero non sia questa oppure è cambiata la maggioranza in Toscana e se è cambiata la maggioranza in Toscana l'Italia Viva non è più in maggioranza ma vota contro alle proposte di modifica dello statuto votato da Gianni e il Movimento 5 Stelle vota a favore io chiederei al Governatore della Regione Toscana di venirci a spiegare cos'è successo. La mia è una posizione nettamente contraria noi siamo andati a stravolgere lo statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi così almeno li ho definiti in aula che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che evidentemente porteranno ad un aumento dei costi ad una infornata di dipendenti di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatore debba essere animata da un profondo spirito di formatore non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito ripeto a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani perché è chiaro che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza una delle modifiche che noi contestiamo più fortemente perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore senza che per contro si pensi ad esempio ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale che invece spetta ciascun consigliere. Al contrario si privilegiano invece questi accordi che nulla portano in più ma che anzi ai toscani portano esclusivamente dei costi maggiori. La posizione del gruppo è stata una posizione assolutamente coerente con quello che avevamo votato in prima lettura tra l'altro approdando ad una soluzione che aveva tenuto conto del non aumentare i costi almeno dal punto di vista delle indennità sulle citazioni che era stata fatta anche dalle opposizioni e che può dare comunque la possibilità di un contributo in più nell'ambito della giunta attraverso il sottosegretario e poi l'aspetto che ho già ricordato dell'ufficio di presidenza. La cosa invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo due mesi e mezzo cambiando opinione, una minoranza con tre posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della presidenza della Repubblica. Voto favorevole da Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato e quindi accettando le nostre modifiche oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello statuto che consentirà un snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'ufficio di presidenza, una maggiore rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Certo, questo non ci basta. In coerenza rispetto al voto di prima lo abbiamo votato a favore anche oggi. Ora passiamo alla fase 2, chiamiamola così, che è quella di modifica del regolamento del Consiglio. È un regolamento vecchio, obsoleto e molto probabilmente non più attinente alla realtà delle dinamiche politiche di oggi. Da oggi Forza Italia comincerà a lavorare anche su quel regolamento. Questo nuovo statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'ufficio di presidenza, che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo. E non sarebbe male, lo riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pari opportunità perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. 10 febbraio, come ogni anno, ricorre il giorno del ricordo, commemorazione della tragedia degli italiani in Istria, vittime delle foibe. E come ogni anno anche il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne. Seduta solenne in Consiglio regionale per il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano Dalmata, delle vicende del confine orientale. Una ricorrenza istituita con legge nel marzo del 2004. La seduta si è aperta con l'intervento del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. C'è chi continua a dire, e vale per la Shoah, ma vale anche per le foibe, che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte e debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più. Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto, ma soprattutto cercare di rendere, di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti, perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche e noi dobbiamo essere contro, fermamente contro chi fa del revisionismo. Chi continua a voler legare quei crimini al periodo fascista lo fa consapevole di dire una falsità storica, lo fa consapevole di voler continuare a violentare la memoria di questi nostri concittadini. L'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà, cosa che è sempre più difficile in questa società. Oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione ma di cordoglio, di sincero dolore e partecipazione e questo mi ha fatto veramente molto piacere perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica, quella di una tragedia che al pari dell'Olocausto ha segnato la storia del Novecento e che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro secolo. Durante la seduta è intervenuto in videoconferenza il giornalista Toni Capuozzo. In conclusione della seduta il presidente Mazzeo ha voluto consegnare con tutto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il presidente Gianni il Pegaso alato a Guido Giacometti. Il giorno di cordoglio ha dato una mano e sta continuando a lavorare progressivamente. È uscita una statistica, l'ho saputo a voce, non l'ho ancora letta, non so se è stata ancora pubblicata, che valutava negli anni la percentuale degli italiani che conoscono questa storia. sta aumentando, ora è arrivata quasi al 50% e tanto rispetto a prima era un silenzio assoluto. Interrogazione in Consiglio regionale per l'assessore alla sanità Bezzini, chiamato a rispondere dai consiglieri di Fratelli d'Italia sul caso Vlaovic. Se qualcuno avesse avuto il dubbio se il calciatore Dusan Vlaovic per recarsi a firmare il contratto con la Juventus avesse violato o meno la quarantena, da oggi sappiamo che la risposta è sì. Il sospetto c'era, ma a scansare l'accusa di eccesso di malizia è stata la risposta dell'assessore regionale alla salute Simone Bezzini a un'interrogazione di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. L'azienda ASL Toscana Centro ha effettuato delle verifiche per comprendere se erano pervenute istanze di trasferimento di luogo dove effettuare l'isolamento. Non sembrerebbero essere arrivate all'ASL istanze di questa natura. L'ex calciatore della Fiorentina, appena passato alla Juventus, Dusan Vlaovic, aveva assaltato Cagliari-Fiorentina del 23 gennaio per positività al Covid e almeno ufficialmente non sarebbe stato ancora negativo il 28 gennaio, giorno del viaggio a Torino, per svolgere le visite mediche con la Juventus. Dunque avrebbe violato le norme Covid. Il Dipartimento di Prevenzione ha fatto ciò che avrebbe fatto di fronte ad ogni cittadino. Ha effettuato una segnalazione all'autorità giudiziaria e sarà l'autorità giudiziaria a fare gli accertamenti che essa riterrà opportuno fare. Da qui in poi c'è anche un tema di riservo. Essendo informazioni che attengono attività dell'autorità giudiziaria da una parte ma anche informazioni di natura sanitaria dobbiamo rispettare anche gli elementi della privacy. La vicenda Vlaovic è diventata un caso che ha suscitato l'ira dei tifosi viola, rivali da sempre dei bianconeri e come se non bastasse la presunta violazione dell'enorme Covid ha giunto benzina sul fuoco. Dopo cinque giorni e mezzo di isolamento il signor Vlaovic ha ritenuto possibile per lui violare la quarantena e recarsi in auto, non si sa con chi, con altri cittadini che poi dopo a seguito di un contatto con un positivo sono rimasti a giro liberi per la nostra regione e se ne è andato beatamente a Torino a firmare il contratto con la Juventus, a farsi le foto in mezzo ai tifosi ad abbracciare le persone che sono tutti, mi sembra, protocolli previsti dalla quarantena Covid. Quindi la regione toscana, l'ASL Toscana Centro ha trasmesso tutti questi dati all'autorità giudiziaria. Mi aspetto che venga trattato come un normale cittadino. E queste regole vengano applicate anche a chi di professione non fa l'avvocato, l'ortolano il muratore ma fa il calciatore da Juventus. Ed è tutto per questa edizione di Toscana Parlamento. Il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale torna la prossima settimana. Il settimanale di Toscana